Per la prima volta commemorata anche la Shoah riguardante gli ebrei di Libia, una pagina di storia ancora poco conosciuta. Gioan Battista Brunori. Vedere in una delle targhe, anche tra i benemeriti della comunità ebraica di Libia, il nome di mio padre, in parte mi ripaga un pochino le sofferenze da lui subite perché non finì l'antisemitismo con le leggi razziali e con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ioram parla del padre Marcello Ortona, diventato giovanissimo direttore del Corriere di Tripoli, uno degli ebrei di Libia perseguitati a causa delle leggi razziali fasciste del 1938, cacciato dalle scuole all'età di 16 anni, deportato nei campi di concentramento di Sidi Azaz, poi in Cirenaica, Ortona riuscì a salvarsi. Non avvenne così per oltre 700 persone. I loro nomi sono stati ricordati per la prima volta nel giorno della memoria al cimitero del Verano, a Roma. La comunità degli ebrei di Libia ha voluto fare memoria di chi è morto nei campi di Giado, Auschwitz e tanti altri. Dopo la guerra, anche i pogrom arabi. David Gerbi, già negli anni scorsi, si era recato nel campo di concentramento di Giado per rendere omaggio alle vittime. Hanno saccheggiato tutto quello che c'era. Dopodiché è passato un po' di tempo e ci hanno costruito l'autostrade, ci hanno costruito purtroppo i palazzi e i nostri morti sono sotto. Il mondo deve sapere che anche noi abbiamo avuto le nostre vittime, che non devono essere dimenticate perché ogni persona che non viene ricordata è come se fosse stata ammazzata per una seconda volta. Grazie a tutti.